Sicuramente Federico non ha giocato per tutti, ma nessuno ha una ripartenenza, sicuramente la fascia come si esprime ad oggi, come visto io, si esprime meglio e la facilità, di di corsa, di potenza e pressione, a volte le intuizioni vengono anche per caso. Se si pensa a Bertens, che era un mistero formidabile, è diventato per necessità e il centroavante è una cosa più forte come stella, uguale Totti, perché eravamo tutti infortunati e invece c'era l'alternativa, ha giocato ancora dieci anni, quindi fa molte le situazioni vengono anche per caso, anche in oggi.